buongiorno cari amici nel signore oggi apriamo la parola di dio nel libro dell'esodo al capitolo 2 di cui leggeremo il versetto 25 che dice e dio guardò sui figli di israele e dio si prese cura di loro in questo frangente il popolo di israele si trovava schiavo in egitto in una situazione sicuramente difficile che però lo ha portato a riflettere e riavvicinarsi al suo dio e dio ha dato ascolto alla sua richiesta di aiuto tutta la bibbia in varie occasioni si descrive una caratteristica peculiare del signore la sua compassione e così come è successo al popolo di israele anche noi possiamo sempre chiedere l'aiuto l'intervento del signore nella nostra vita e lui non rimarrà sordo alle nostre richieste purché queste siano fatte con cuore sincero mosso dalla fede e dalla fiducia nel nostro salvatore non dubitiamo sul fatto che lui si manifesterà e manifesterà la sua potenza se a nostra volta riconosciamo il bisogno della sua misericordia e facciamo nostre parole di gesù quando disse senza di me non potete fare nulla amen grazie a tutti